Le anticipazioni della sopa opera ci danno notizie buone. La nostra Castro farà ritorno a Puentevieco tra circa un centinaio di puntate. Negli episodi passati, Piedade e Aurora sono partite per Parigi. Ora però la giovane figlia di Peppa ha deciso di accettare la borsa di studio che le permetterà di diventare dottoressa. Aurora farà però ritorno a Puentevieco. Come già sappiamo, la morte di Bosco non si farà troppo attendere. L'ex ragazzo selvaggio infatti, perderà la vita per salvare ancora una volta quella di Francisca. Prima della sua morte, conosceremo un altro personaggio estremamente pericoloso, Bertha. La donna malata di mente e ossessionata dall'odio, metterà in pericolo Beltran. L'ultimo desiderio di Bosco sarà quello di affidare il figlio alla sorella Aurora, ma Francisca non manterrà fede alla promessa. Aurora verrà a sapere della morte di Bosco e si precipiterà a Puentevieco per assistere al suo funerale. In questa nefasta occasione scoprirà nel frattempo che Francisca ha portato con sé Beltran, infischiandosene delle volontà di Bosco. Quindi Aurora sarà costretta a rapire Beltran per toglierlo dalle grinzie della Montenegro.